Ok, possiamo avere un minuto di silenzio e inizieremo a abbassare la bara. Grazie. Aspetta, aspetta, aspetta. Qual è il problema? Non possiamo fare tardi. In questione il morto ha dichiarato di suonare questa canzone mentre veniva calato nella tomba. Ah, ora che... ora vedo. È tutto chiaro adesso. Tieni. Grazie a tutti.